Ciao! Benvenute in un nuovo video. Come leggete dal titolo questo sarà un video sui prodotti che ho acquistato della collezione limitata Generation Nets di Kiko. Appunto è un prove su strade ma anche una recensione perché non è proprio la prima volta che provo questi prodotti e quindi diciamo che vi posso dire anche quello che penso molto più approfonditamente rispetto a un prove su strade. Allora io vi parlerò di un ombretto e di un blush. Se volete vedere gli swatch di questa collezione vi lascio qua il video che ho fatto, appunto lì dove potete vedere tutti gli swatch. E niente, io la base l'ho già fatta, iniziamo subito con l'ombretto che è il Cool Touch Eyeshadow, questo qua, il numero 08, ma così era dritto. Questi sono gli ingredienti. E questo è l'ombretto. È specchiato, spero che possiate vedere qualcosa. Allora, qua c'è lo specchio, qua invece c'è la plastichina che si apre, poi si toglie un'altra plastichina che c'è qua, si viene via, che è questa qua e questo è l'ombretto che spero possiate vederlo bene. È un top, ma anche del viola, un grigio viola diciamo, molto bello. Io lo applicherò con la sua spugnetta che la danno in dotazione, giusto per farvi vedere come si comporta anche questo. Quindi niente, zoom un po'. Ok. E lo andrò a usare praticamente solo lui, sulla palpebra mobile, come colore unico. Ok. Ok, andiamo ad applicarlo. Lo prelievo. Questo. Ha una consistenza, non so se potete vederlo, metti a fuoco. Ha una consistenza tipo che è tra una polvere e un ombretto in crema, quindi è molto particolare. Io ho già applicato un primer sotto perché comunque a me non durano gli ombretti senza primer. Ok. Questo è l'ombretto senza sfumarlo. spero che possiate apprezzarlo. Ora invece andrò a sfumarlo, farò l'altro occhio, completerò il trucco occhi e ci vediamo dopo. Ok. Questi sono gli occhi. ora vediamo il blush. Allora. Il blush è questo. gli ingredienti. Io ho preso il numero 04. Questo è il packaging fuori. anche qua c'è uno specchio e questo è il blush. lo andrò a applicare con questo pennello di Kiko che è il numero 103. io spero si veda. ok, questi sono i due prodotti appena applicati. Sono le 10.33 e ci vediamo fra qualche ora per vedere com'è la situazione e dopo vi dico cosa ne penso. Ok, rieccomi. Sono passate circa tre ore e mezza da quando avevo applicato questi prodotti. ora vi faccio vedere come sono messi. Questo è l'ombretto. e il blush. Allora, come avete visto l'ombretto con il primer a me è durato, non ha fatto le pieghe, non ha fatto niente di particolare. è rimasto bello intenso come appena applicato. Il blush anche, però devo essere sincera, i blush in generale durano parecchio, fanno anche 5 ore tranquillamente anche se ho una pelle comunque grassa. Non so perché, ma il blush a me mi dura. quindi ecco, giusto per avvertirvi. Una cosa che ho notato nel blush è che, come vi dicevo nel video della collezione, quando sono andata a prenderlo sulla mano per poi farli scrivere, le prime due colorazioni non scrivevano. la terza un po' di più, la quarta scriveva, ma neanche così tanto. Invece con il pennello devo dire che non è niente male perché puoi andare a intensificarlo e scrive. Quindi secondo me andrebbero provate anche le altre colorazioni col pennello per vedere se magari cambia la scrivenza. però appunto a me il blush è piaciuto, sia perché comunque è modulabile, sia per il colore, sia perché appunto a me è durato, sia il packaging, che ve lo faccio rivedere, ma è bellissimo, perché ha fatto a mosaico appunto, questo qua. Il prezzo ve lo metto qua da qualche parte perché non me lo ricordo. E appunto a me il blush è piaciuto, come avete visto la durata almeno su di me è buona. L'ombretto anche, sempre vi metto qua il prezzo, anche a me è piaciuto, quando lo si va a sfumare si vede più il grigio, il top, mentre se lo applichi sulla palpebra mobile con le dita o con il pennellino viene anche fuori il viola, mentre se lo sfumi si vede più il grigio top. E devo dire che questa cosa mi è piaciuta perché così, usando solo un colore, ti permette di fare un trucco completo, perché sembra che hai due colori, invece ne hai solo uno. Quindi a me il colore di questo ombretto è piaciuto davvero moltissimo, almeno sui miei occhi, sulla mia palpebra. Non mi ha fatto nessun tipo di problemi, ad esempio non è svanito, non è andato nelle pieghe, non ha fatto l'effetto carta pecora. A me è durato, non ha magari colato, non ha fatto macchia, non ha fatto niente di particolare, quindi a me è piaciuto. Questo è quello che vi volevo dire di questi prodotti, in conclusione a me mi sono piaciuti entrambi, sia per il colore, soprattutto dell'ombretto, è davvero fantastico e particolare. In realtà, lo vorrei provare sopra all'ombretto in crema di Pupa, il numero 600, se non sbaglio, dei Vamp, crema e shadow, perché è come colore, quello là è più sul viola, quindi voglio vedere come funzionano insieme, se magari fa venire fuori più i riflessi viola che ha questo ombretto, però già così a me piace molto. Quindi, boh, niente, questo è quello che io ho potuto notare usando questi prodotti, la sfumabilità del blush è molto buona, si sfuma davvero bene, anche l'ombretto. L'applicatore a spugnetta comunque è valido per l'ombretto, anzi, l'ho trovato molto più valido o applicarlo con la spugnetta lì oppure con le dita. Secondo me è un'applicazione molto più semplice, più veloce e il colore resta più concentrato, diciamo. Quindi, niente, questo è quello che vi volevo dire di questi due prodotti. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se anche voi avete provato questi prodotti, fatemelo sapere nell'infobot e, sì, nei commenti. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!